Ciao ragazzi, oggi a mio amico Satoum facciamo la palla e non scordatevi di fare 20.000 like, iscriveteci qua sotto, avete capito? Ora noi giochiamo alla palla, guardate questa è la nostra palla, lo vedete? Guardate che giochiamo, prima lui era un po' severo con noi, ora non più, ora gioca un attimo, rimanete qua che vado a mettere con la scuola. Ok, ci ho avuto 4 metri per il nostro mito ora, non è il nostro mito. Ok, ho avuto 4 metri per la palla, 3, 2, 1, via! Lui sta rimanendo ancora la palla. Avete visto che colpa ha fatto? Oh, stai imparando proprio! Bravo Satoum! Stai imparando l'accello lontano! Ciao! 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 Ciao!